Una buona giornata e ben trovati dalla redazione di Sette in Punto. Quest'oggi parliamo di bambini con superpoteri e ne parliamo con la mamma di questi bambini che è anche una collega, quindi perdonerete insomma il tu perché sembrerebbe strano un po' darsi del lei. Benvenuta allora Carlotta Iesi. Grazie, buongiorno. Benvenuta doppiamente perché Carlotta arriva da Milano e quindi insomma è stato anche un po' più faticoso raggiungerci. Vi faccio vedere il libro di Carlotta che ha scritto peraltro altri libri, ma questo è un po' un libro che nasce. Un libro del cuore. Un libro del cuore, no? I miei bambini hanno i superpoteri, storia della nostra dislessia. Carlotta è anche fondatrice di Radiomamma, un portale importante, poi magari ve lo racconteremo. Partiamo però da questi bambini con i superpoteri e facciamo raccontare direttamente a Carlotta quali sono questi superpoteri e come si sono manifestati. Questa è la storia appunto della nostra dislessia, cioè dei nostri due figli di 12 e di 10 anni che oggi fanno quindi la seconda media e la quinta elementare, che però è anche un po' la dislessia di tutta la famiglia perché poi insomma questo disturbo specifico dell'apprendimento impatta tantissimo sulla vita quotidiana, sui ritmi e in generale anche proprio sul modo di parlare, di relazionarsi all'interno di una famiglia. I superpoteri li abbiamo scoperti dopo una iniziale fase di smarrimento che infatti nel libro è raccontata in una fase di giù, di questa discesa un po' nella palude dei disturbi specifici dell'apprendimento e di uno smarrimento da un lato perché vedevamo il nostro figlio maggiore che a quel tempo era in quarta elementare, può sfiorire un po' davanti ai nostri occhi, soprattutto la sua autostima a crollare, dalle pagine dei quaderni questa sensazione di incapacità si era un po' diffusa a 360 gradi sul campo da calcio, all'oratorio, agli scout eccetera, quindi in tutta la sua socialità e lo smarrimento mio e di mio marito davanti alla scuola che non aspetta, appunto a queste difficoltà dei bambini che non riuscivamo a capire e che abbiamo scambiato per centomila altri sintomi all'inizio prima di capire cosa era veramente. Sì, abbiamo fatto tutte le visite mediche del caso, dall'ortopedico, dal dentista eccetera, perché c'era sempre il nostro figlio più grande, appunto somatizzava un po' questa sofferenza e quindi insomma prima di capire che di dislessia si trattava ci abbiamo messo un po'. Questa iniziale fase appunto di paura, di liti, di così, di non sapere bene dove girarsi e poi a un certo punto quando noi abbiamo fatto i test, quando abbiamo avuto la certificazione, la scelta di non concentrarci solo sul dis, che è un po' questo prefisso odioso, di qualcosa che non va, di disfunzione, ma anche sui superpoteri della dislessia, che poi sono quelli che la dislessia si porta un po' presso, la dislessia nelle sue varie forme che sono appunto la disgrafia, la discalculia, la disortografia. Quali sono? Sono l'immaginazione, l'intuito, la creatività, un po' sapevamo che esistevano perché ci sono i grandi dislessici del passato, tra l'altro ti interrompo perché proprio i grandi dislessici ci introducono ogni capitolo, facciamo qualche nome, perché è un po' anche una strategia quella di far capire magari ai bambini che persone che poi sono diventate importanti, non in quanto famose, ma importanti per quello che hanno fatto, quindi per questi loro anche superpoteri, sono stati probabilmente bambini in difficoltà, soprattutto bambini a cui l'autostima è stata un po' flagellata in qualche modo. Ci sono i grandi dislessici del passato, il famoso Einstein che prendeva 5 in matematica, io ho sempre fatto vedere la pagella di Einstein ai miei figli, 5, e poi ha vinto il premio Nobel piuttosto che Leonardo, che era così, lui pensava proprio come fanno i dislessici, per immagini invece che per suoni delle parole, quindi era talmente creativo, vedeva in testa delle immagini tridimensionali da inventare le macchine del futuro e allo stesso tempo però da scrivere a rovescio. E poi ci sono i dislessici di oggi, che noi siamo andati a stanarci un pochino, perché appunto i nostri figli dicevano sì, vabbè, però loro sono morti e sepolti, come può dire un ragazzino. E quindi Mika, il cantante, che adesso ha fatto anche questa sorta di suo outing sulla dislessia, oppure Jamie Oliver, lo chef, oppure Fonzi di Happy Days, gli attori, Orlando Bloom, insomma più riuscivamo, più abbiamo cercato dei personaggi vicini a loro, più siamo riusciti in qualche modo a fargli capire che concentrandosi appunto sui talenti, sui superpoteri, si poteva trovare una strada proprio per tenere a bada quelle che sono le difficoltà. Anche perché tu parlavi della pagella, però no, se ricordo bene, e quando tu hai mostrato la pagella a tuo figlio, lui ha detto sì, ma chissà come si è sentito, probabilmente medesimandosi, anche se si tratta di una persona. Certo, lui ci ha proprio chiesto, ma qualcuno gliel'ha chiesto Einstein come si sentiva quando ha preso quel 5 in matematica, in fisica non mi ricordo più che materia fosse, però insomma, a lui del dopo non, insomma, c'era questo tema della sofferenza adesso, qui e ora in classe, del sentirsi di colpo più stupidi, più scemi, di vedere le parole che spuntano fuori dalla lavagna, di non capire perché, di arrivare a casa con i compiti scritti in qualche modo e non riuscire a leggersi il diario. E poi questo, o sottolineare, no, spesso degli insegnanti, queste, tra virgolette, mancanze, e non capire che magari il concetto al bambino dislessico può arrivare, se spiegato non con i canoni tradizionali. Sì, certo, purtroppo noi abbiamo trovato molta rigidità dovuta, non credo, alla cattiveria degli insegnanti, piuttosto magari a una mancanza di preparazione specifica, e quindi, insomma, questi scrivi meglio, scrivi meglio, in rosso, giganti, che tutti i weekend ci tornavano a casa, scritti sui quaderni, insomma, erano proprio dei voti che feriscono un po' come delle pallottole, no, e che al bambino lo minano particolarmente. Noi, ovviamente, prima di capire, cioè, abbiamo capito che nostro figlio compensava, come direbbero gli specialisti, quindi ha cominciato, noi vedevamo che era sempre stanco, che non voleva più andare a scuola, che aveva male da tutte le parti, e solo dopo, in un secondo tempo, questa specie di lotta un po' interiore che faceva e arrivasse trasferita sulle pagine dei quaderni, le stanghette, i numeri invertiti e le cose scritte veramente male. C'è anche, insomma, tra le righe, c'è anche un po' di autocritica, no, nel libro, nel senso che ci sono queste esplosioni anche lecite, poi, da parte dei genitori che fino al momento in cui non capiscono qual è il problema, comunque sono in qualche modo, secondo me, autorizzati a pensare altro, o c'è a pensare, appunto, che magari uno non abbia così tanta voglia, eccetera. Quindi non ti sei risparmiata nemmeno da questo punto di vista. No, devo dire, gli errori che non si devono fare li abbiamo fatti tutti e continuiamo spessissimo a farli. Cioè, anche adesso che, come dire, sappiamo come funziona, abbiamo studiato come funziona il cervello dei dislessici, abbiamo fatto il libro in casa, insomma, parliamo di questo tema sempre, non più tardi dell'altro giorno mi sono trovata a sbattere il quaderno in testa a mio figlio perché mi aveva veramente fatto andare fuori dai gangheri. Per cui, diciamo che quello che ti insegna è a un certo punto che tu, genitore, non devi più guardare un po' dall'alto, sempre con amore, ma dal piedistallo tuo figlio, con i canoni di chi, come dire, sa che si studia in un certo modo, che l'impegno è questa cosa qui, che il compito fatto bene è quest'altra, ma fare come un po' un passo indietro e lasciarti, certe volte, stupire anche da come tuo figlio ha un modo diverso di risolvere i problemi, ma anche più banali, tipo studiare, per esempio. Noi abbiamo lottato fino alla fine, finché abbiamo capito che uno dei nostri due figli doveva stare sdraiato, oppure muoversi per studiare, perché sennò non... C'è questa scena dei fogli, no? Sì, sì, ecco, un'altra volta... Si può raccontarla. Sì, cioè, appunto, a un certo punto, gli specialisti che ci seguono ci hanno detto, guardate, vostro figlio deve trovare il suo personale stile di apprendimento. E allora noi genitori tutte le sere chiediamo, ma cosa vuol dire questa roba qua, no? Finché un giorno proprio... C'è un problema che magari abbiamo studiato normalmente... Esatto, cosa vuol dire? Vuol dire che, insomma, posso lasciarlo studiare cinque minuti, oppure con la musica a palla, eccetera. Insomma, una volta che proprio stavamo litigando, perché non riuscivamo a trovare un canale di comunicazione, gli ho detto, vabbè, ma arrangiati. Gli ho proprio sbattuto la porta della stanza e sono andata via. Torno dopo un'oretta e trovo la stanza tutta piena di fogli A4. Il mio figlio stava studiando storia all'impero romano, con, diciamo, le pietre miliari, le date fondamentali, scritte in tutti colori diversi, sempre in 3D, perché appunto il dislessico pensa per immagine, quindi gli viene più facile lavorare sullo spessore, il colore, eccetera. E lui mi stupisce un po', mi dice, vabbè, adesso dimmelo tu se questa data qua va prima o dopo la caduta di Costantinopoli. In realtà, quel suo modo di studiare aveva funzionato molto meglio che il mio di dirgli, ok, l'evidenziatore segna, non so, le cose importanti sul libro. Per cui è sempre un po', così, lo vuoi aiutare, ma devi anche un po' rispettarlo in questa sua diversità, anche se questo significa rallentare un po' tutto e darsi anche degli obiettivi magari un po' diversi. Perché poi la dislessia, diciamo, ha, cioè, la riconosce, alcuni tratti della dislessia si riconoscono anche in alcuni gesti, no? L'esempio che tu fai è, insomma, le stringhe, sono delle scarpe, noi le chiamiamo lacci, comunque sono quelle, sono piuttosto che anche nello sport. Certo, diciamo, alla base è un disturbo plassico-motorio, quindi di coordinamento. E quindi noi, appunto, anche mio figlio all'inizio diciamo, ma perché io quando faccio la borsa del basket sono sempre l'ultimo? O ancora oggi, che lui è in seconda media, secondo in quinta, il ragazzino di seconda media ha difficoltà tutte le sere a fare la cartella, cioè difficoltà, non che non ci riesca, però sembra dimenticarsi sempre qualche pezzo, oppure le chiavi di casa, regolarmente le dimentica o le perde, insomma, sono tante piccole cose, o alla mattina, cioè, è difficile certe volte per loro mettere in ordine delle sequenze di azioni, ecco. E quindi, però, comunque, delle strategie voi le avete trovate, no? E sì, appunto, noi a un certo punto abbiamo detto, vabbè, così, nel modo standard, in cui tutti fanno le cose e noi genitori le facciamo, non ne usciamo. Abbiamo provato a chiedere anche loro, ma tu com'è che risolveressi questo problema? E da lì abbiamo cominciato a capire, per esempio, il nostro figlio più grande continuava a disegnare, no? A fare fumetti, a pasticciare, ci sembrava che pasticciasse. In realtà era il suo modo di esprimersi. E quindi ha cominciato lui a disegnare dei grandi fumetti e dei cartelli per ricordarsi, per esempio, di prendere le chiavi prima di uscire di casa o così, o anche altre cose. Abbiamo un cartello in bagno in cui lui ha disegnato un bambino che abbassa la tavoletta del WC e la mamma che gli batte il 5, perché evidentemente io l'avevo stressato così tanto su fare questo gesto, che insomma, però il concetto non passava. Lui ha fatto il disegno e lo visualizzando. Oppure, non so, il nostro figlio più piccolo invece è un appassionatissimo di storie e fantasy, di saghe, da guerre stellare, il Signore degli Anelli e tutte queste cose qui. E noi non ci spiegavamo perché lui si ricordasse ogni singolo personaggio appunto del Signore degli Anelli e invece non la formulina di matematica, per esempio. Grazie, quindi una memoria, no? E quindi anche la maestra ci diceva, no, non studia, lui non studia, lui non studia. E noi diciamo, ma perché tu ti ricordi certe cose e altre no? E lui dice, no, perché io mi ricordo le storie sequenziali. E allora a quel punto questa sua specie di memoria abbiamo iniziato a usarla per la matematica. Non so se sia un metodo giusto o sbagliato, però è il nostro metodo. E quindi a certe volte ci mettiamo proprio, non so, a disegnare una moltiplicazione, a immaginarci i numeri come se fossero dei personaggi, l'uguale come le scale che portano da un pianerottolo all'altro, il per come il campanello per suonare vicini. Insomma, costruiamo delle storie sui problemi, sulle equivalenze, cercando sempre un po' la sequenza di azioni e di visualizzare un po' le immagini. Perché tu fai l'esempio proprio del numero, della quantità di immagini che è impressionante? Sì. Ecco, noi ci siamo messi proprio a studiare, adesso non me lo ricordo se tu ce l'hai davanti, lo puoi dire tu. Praticamente il dislessico pensa in maniera molto più veloce di una persona non dislessica che pensa in modo lineare. Cioè il dislessico pensa aumentando un'immagine, creandola sempre più forte. Guarda, è nel capitolo del Minecraft. Lo cerco, perché mi sono segnata quello che... Sì, ma è impressionante nel senso che per far capire, perché è comunque difficile da capire, perché comunque ovviamente non... Ecco, te lo leggo un secondo perché i numeri, come anch'io poi... Allora, i dislessici pensano per immagini invece che per suoni delle parole, alla velocità di 32 immagini concettualizzate al secondo contro le due o cinque parole concettualizzate al secondo da un dislessico. Un modo di pensare che si stima sia da 400 a 2000 volte più veloce del ragionamento verbale. È molto diverso. E questo alle volte è anche il motivo per cui il nostro figlio ce l'ha appunto. Ogni tanto balbettano, per esempio, perché il loro cervello è così più avanti, le immagini sono così. È come appunto, il nostro figlio dice il Minecraft che ho in testa. Minecraft è questo videogioco, no? Fatto di blocchi. Lo conosciamo. Esatto, chi ha figli lo conosce. E lui dice il mio cervello è come se io mi muovessi dentro un Minecraft. E quindi una gran confusione anche, no? Tanta energia che viene usata. C'è una, questa frase che mi ha colpito, vi guardo, perché poi ovviamente parliamo di tutti e due i vostri figli, e non posso evitare di pensare alle altre che per scivolare placide sul lago muovono freneticamente le zampe sott'acqua, nel senso che si vede questa apparente tranquillità, ma sotto c'è una fatica. Mostruosa. E sì, loro fanno, proprio alle volte sembrano stanchi dopo aver fatto poco, ma il fatto è che appunto mettere insieme un'azione dopo l'altra, una sequenza, gli richiede un dispendio di energie enormi. E questa immagine dell'anatra, diciamo che appunto da fuori è tutto normale, sotto invece lì che fatica con le zampette, è anche un po' quello che gli altri non capiscono. Non so se nel libro emerge, ma insomma noi ci siamo sentiti molto soli, pur circondati da una comunità di genitori, di insegnanti, eccetera, a fare i conti con questo disturbo che c'è ma non si vede, gli altri non lo vedono, no? E quindi dicono, ma cosa succede a questo bambino? Perché piange disperatamente per niente? Certo. O perché si rifiuta di andare a scuola? O perché sotto sotto lui ha tutto questo lavorio che nessun altro vede? Anche perché, voglio dire, comunque tu affidi i tuoi figli alla scuola, li affida degli insegnanti e quindi spesso non riesci a capire come mai, magari delle cose che per te sono abbastanza evidenti, come delle difficoltà, ma che magari non è ancora inquadrato, siano liquidate poi da chi è in mano questi bambini che sono poi così preziosi, come magari c'è al troneria, piuttosto che superficialità, ma questo spesso senza nemmeno troppi filtri, no? Sì. Cioè, e quindi minare l'autostima di questi bambini, perché una cosa che ho letto, magari l'avrai sicuramente letto anche tu, è che c'è stato questo momento esponenziale, poi dei bambini certificati, no? Sui DSA, che sono poi i disturbi appunto di apprendimento, come quasi si volesse un po', ci si volesse un po' giustificare. Ho letto un pedagogista, insomma, lui diceva che poi la pedagogia in realtà non è più neanche una materia d'esame, a quanto ho capito degli insegnanti, e lui diceva che manca la pedagogia e quindi manca di base un po' l'insegnamento ai genitori che poi si trovano, però forse è un modo insomma un po' superficiale di liquidare il problema. Allora, è vero che le certificazioni sono aumentate, qualcuno dice perché adesso siamo alle prese con dei inattivi digitali che stanno sempre lì sui telefonini, gli iPad, eccetera, e quindi hanno perso un po' la manualità fine che poi ti serve per scrivere. Ma potrebbe essere, ecco, di certo c'è una scuola, almeno per quello che ho potuto vedere io, una scuola pubblica che è sempre più in difficoltà, con presenze che non ci sono tra le due insegnanti, e quindi il bambino che è un po' più fragile degli altri, un po' più lento degli altri, diventa un problema e si tende in qualche modo a eliminarlo. Oppure, visto che c'è la legge sulla dislessia che prevede tutta una serie di ausili, di metodi compensativi, gli ausili possono essere l'utilizzo della calcolatrice, del computer, eccetera, metodi compensativi di dare del tempo in più durante le verifiche o verifiche facilitate, si tende a dire, va bene, c'è una certificazione, allora sei autorizzato praticamente a non fare nulla. La mia personale posizione su questo è che ci sono dei casi in cui il ricorso agli ausili è assolutamente necessario perché o la dislessia è molto grave oppure viene diagnosticata molto tardi. Nel caso dei nostri figli, appunto, l'abbiamo stanata nei primi anni degli elementari, non era così grave, noi eravamo così in ritardo e quindi un po' consigliati da questi specialisti abbiamo detto, no, vabbè, noi non vogliamo usare, non so, la calcolatrice per imparare a fare le moltiplicazioni o le divisioni, no? E gli insegnanti ci hanno detto, ma come, non volete dare ai vostri figli tutti gli ausili previsti? E noi abbiamo detto, finché si può, no, vogliamo che continuino a esercitare il loro cervello e pace se prendono sei invece che nove, no? Però questo agli insegnanti ha posto un problema perché vuol dire che anche tu ti devi mettere un pochino più in gioco. Adesso che il nostro figlio maggiore invece è in seconda media, gli insegnanti ci dicono forse sarebbe meglio che iniziasse a usare il computer perché essendo disgrafico, per esempio nei temi, se si concentra troppo sulla grafia perde poi il senso del pensiero. Poi aumenta anche il carico di studio. E allora quindi stiamo iniziando a introdurlo e lui però si vergogna perché poi c'è tutto il tema anche di essere diverso, per cui insomma, secondo me è troppo semplice, come dicevi, dire no, ci sono troppi dislessici, non riusciamo a gestirli, va fatta una formazione vera. Mi è capitato di una insegnante giovane che mi ha scritto su Facebook dicendo guarda ti chiedo scusa da parte della categoria, però ti voglio dire che tante volte noi insegnanti proprio non sappiamo come si sente un ragazzino dislessico, cioè vediamo lo sbruffone, quello che fa un po' lo sbruffone perché non vuol far vedere di essere imbranato, vediamo quello che sembra addormentarsi, ma non sappiamo dietro appunto le zampette dell'anatra che cosa stanno facendo. Però voglio dire che c'è anche modo un po' di informarsi, mi vieno a dire che ci sono anche, probabilmente ci sono due macro categorie di insegnanti, sto ovviamente minimizzando e generalizzando, ma ci sono insegnanti magari motivati, preparati e anche formati e ci sono quelli che vanno avanti per quella strada e anche voglio dire di fronte magari a un piano didattico personalizzato che è quello che hanno diritto questi bambini nel momento in cui vengono certificati e non si fermano e continuano a pensare che magari il bambino sia svogliato. però voi avete fatto una scelta precisa, adesso ti faccio la domanda e poi lancio la pubblicità. Nonostante le difficoltà, soprattutto anche a livello emotivo dei vostri figli, non avete cambiato scuola, no? Anche quella insomma alla fine comporta anche un dispendio di energie perché magari in qualche modo uno potrebbe pensare che sarebbe stato più semplice invece cambiare scuola, non è detto, perché bisogna vedere poi dove vai quando cambi. Adesso però c'è la pubblicità quindi la risposta l'ho. Ok. E eccoci qui, siamo ancora con Carlotta Iesi, autrice di questo libro, I miei bambini hanno i superpoteri, storia della nostra dislessia, ve lo consiglio perché comunque è una bella storia ad amore, insomma, con tutto poi quello che viene raccontato e anche insomma è un po' la ricerca, no? Non certo di arrivare a dire vabbè adesso ho capito tutto e so come si fa, ma è un po' insomma la ricerca è un po' una specie di, vi siete creati una specie di piccolo gruppo di autoaiuto, no? Sì. Nel libro ci sono anche per esempio, c'è la parte in cui tu parli con le tue amiche che penso sia importante anche quello, però prima della pubblicità ti avevo fatto una domanda sul fatto, sulla vostra decisione di non cambiare scuola, voi dite abbiamo preferito valorizzare, potenziare le capacità dei nostri figli, ma perché in qualche modo poteva essere considerata una sconfitta cambiare scuola? Allora, devo dire, mille volte ci abbiamo pensato, cambiamo scuola, non cambiamo scuola, ci siamo anche guardati in giro per vedere se esisteva un po' questa scuola dei sogni che cercavamo e di fatto non l'abbiamo trovata, ma alla base abbiamo pensato che l'insegnamento forse più giusto da dare ai nostri figli che comunque con la dislessia conviveranno sempre, era quello di in qualche modo imparare a superare le difficoltà tingendo dalle loro forze e far capire che insomma un capo che non ti capisce nella vita ce l'avrai sempre, uno un collega eccetera e che devi trovare tu le risorse in qualche modo per contrastare questa cosa e riuscire a superare una difficoltà, un ostacolo. Certamente l'impatto anche psicologico che poi su un bambino ha stare con degli insegnanti che magari o semplicemente non lo capiscono o addirittura certe volte un po' lo mortificano, non è banale, però noi abbiamo deciso, abbiamo cercato di spiegare ai bambini che come armati al posto di avere una lancia e come dire sconfiggere tutti abbiamo cercato di prendere questi due enormi ferri da sti da maglia e provare a creare su di loro appunto a sferruzzare una tuta di superpoteri per far capire a loro quali sono i talenti che hanno per affrontare le varie difficoltà, abbiamo cercato di riconoscerli noi e ti insegno a riconoscere questi superpoteri che tu hai e poi quasi a schiacciare un bottone a capire quando li puoi usare in modo che tu poi possa andare nel mondo sempre ovunque e questa è stata un po' la decisione. Detto questo io davvero mi sto interrogando e sto parlando con degli esperti sul fatto se anche in Italia magari possa essere necessario creare una scuola per special needs, insomma per bambini che hanno bisogno e anche talenti speciali all'estero esistono, addirittura esistono degli esempi di scuole che anche come dire non per bambini con disturbi specifici dell'apprendimento che però hanno adottato come dire una didattica che va bene per i bambini con dei disturbi e che quindi in qualche modo facilita l'apprendimento anche di tutti gli altri e quindi mi sto chiedendo se insomma... più facile per loro è più facile anche per gli altri. Esatto, e qualcuno dice sarà un ghetto una scuola di questo tipo, io penso forse all'inizio sarà visto un po' così però poi sarà così innovativa nella didattica laboratoriale, nel non essere solo nozionistica, nello sviluppare tante altre competenze o soft skill come le chiamano all'estero che ci vorranno andare tutti. Ma io ci sto un po' lavorando, vediamo se ce la facciamo. Partendo da Milano naturalmente, come abbiamo detto tu. Però penso che sia un bisogno, insomma si parla di due milioni di persone in Italia, qualcuno dice un bambino su cinque nelle classi, uno su tre, insomma sono numeri che... Tra l'altro arrivare a capire che un bambino è effettivamente uno di questi disturbi, non è un percorso semplice, non è che tu vai e uno ti dice sì ce l'hai, no non ce l'hai, ci sono anche dei tempi lunghi, strutture accreditate non ce ne sono moltissime, quindi ci sono anche bambini che vivono nel limbo per un bel po' di tempo, magari continuano ad andare a scuola con quella difficoltà emotiva che abbiamo raccontato anche e che ha riguardato i tuoi figli e subiscono in qualche modo. Certo, sì ci sono, alle volte passano anche dal momento in cui fai test, quando hai la certificazione 3-4 mesi, se hai la fortuna come dire di trovare appunto la struttura accreditata, privata, perché se devi passare dal pubblico molto spesso ci sono delle liste d'attese, io avevo provato per esempio a contattare la Uompia, l'unità sul territorio, ma c'erano delle liste d'attesa di due anni, mi hanno detto guardi prima di due anni non li possiamo vedere, insomma capiamo che a quel punto sarebbero finite le elementari, dalla terza alla quinta elementare praticamente, che vuol dire tantissimo, per cui c'è un tema sicuramente di formazione, adesso cominciano a... ho visto che ci sono delle app, dei software che consentono ai genitori una specie di pre-diagnosi, per cui c'è una specie di checklist di dire ho questo sintomo, questo sintomo, questo sintomo, insomma per sensibilizzare un po' di più. E poi c'è anche il tema di genitori che non vogliono sentirsi dire che il proprio figlio ha qualcosa che non va, per cui gli insegnanti, io ho parlato anche con tanti insegnanti che dicono ma io le noto certe cose, però ho paura di dirlo perché non tutti i genitori vogliono sentirsi dire questo. Il problema è che negarlo non serve a nulla, cioè conviene affrontare il toro per le corne, poi magari appunto non vedere tutto in negativo, come abbiamo cercato di fare noi, ma vedere in positivo e capire insomma qual è l'altra faccia della dislessia. E poi c'è anche un aspetto non trascurabile che è quello dei compagni, degli amici e dei genitori, magari i genitori che sono super performanti o pensano di esserlo e pensano anche di avere dei figli così e magari ci mettono il carico rispetto a… Sì, devo dire, la nostra esperienza è stata appunto molto di solitudine e di incomprensione, nonostante che noi si andasse fuori da scuola a dire ma a nostro figlio sta succedendo questo, vi sembra normale. Insomma, alla fine capisci che da un lato tuo figlio diventa un po' un freno e quindi agli altri dà in qualche modo fastidio. Per cui se è vero che serve sicuramente una formazione maggiore agli insegnanti, forse potrebbe essere utile anche una formazione di empatia, sull'empatia proprio sul mettersi nei panni dell'altro, sia ai ragazzi sia ai genitori, perché noi ci siamo trovati per esempio a dire anche a gente che conoscevamo e incontravamo tutti i giorni da quattro anni, guarda che la fragilità di mio figlio oggi è l'incapacità dell'insegnante magari di gestirla. Può capitare a te un domani che c'è una malattia in famiglia, una separazione, cioè non è legato al disturbo dell'apprendimento. Quando tu diventi più fragile tendono a metterti da parte, a trattarti come un peso. Per cui insomma a me piacerebbe che questo fosse un libro non solo per i genitori di bambini dislessici ma per genitori in generale e che ci spingesse, come dire, a non avere paura a percorrere strade nuove per i nostri figli e in qualche modo anche a tirare per la giacchetta gli altri genitori e dire oh, insomma non tutti hanno figli perfetti ma capiamo anche come ci si può aiutare. C'è un passaggio in cui uno dei tuoi figli, perché poi c'è questa linea continua tra il grande e il piccolo, come li chiami tu, per cui molte cose riguardano l'uno e l'altro ma comunque insomma nell'ambito della dislessia probabilmente è un po' voluto immagino, questo filo comune in cui uno dei due dice come si sente, no? Sì, lui all'inizio diciamo noi abbiamo proprio visto il nostro figlio maggiore sfiorire, cioè lui era un ragazzo super allegro all'inizio della quarta elementare e poi di colpo non voleva più andare a scuola, ma proprio non scendeva dal letto, faceva di tutto per dimenticarsi la cartella a scuola, a casa, si inventava le cose più strane, mi capitava di portarlo a scuola la mattina e di vederlo impalato sul marciapiede, insomma alla fine scava, 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 abbiamo capito che poteva trattarsi di dislessia quando una domenica gli abbiamo fatto riscrivere per la quinta volta forse un piccolo pensierino e ogni volta che lo riscriveva ci sembrava sempre più disordinato e quando gli abbiamo detto guarda che potrebbe essere la dislessia, lui ha detto, e abbiamo dato una sorta di colpevole enorme a questa cosa che lui sentiva dentro, lui ha detto sì effettivamente io mi sento così, un pezzo di corda buttato per terra, che insomma fa abbastanza male sentirselo dire da un bambino di 8-9 anni, insomma. Però tu hai una sorella che in qualche modo ti ha anche in qualche modo illuminato, no? Sì, devo dire noi forse siamo stati doppiamente ciechi, nel senso che nella mia famiglia ci sono vari casi di dislessia, cugini, zii e anche noi siamo tre sorelle, mia sorella negli anni 70 già faceva la terapia per la dislessia e io pur sapendo questo non ho neanche mai immaginato che mio figlio potesse esserlo perché era uno di quelli che aveva iniziato a scrivere subito, legge tantissimo, quindi sintomi classici non ce li aveva fino a che non è arrivato in quarta elementare e quindi ho chiesto subito a mia sorella ma secondo te è vero che gli devo dire sei dislessico e lei mi ha detto certamente sì, cioè dare un nome a questa cosa e un colpevole dà inizialmente sollievo perché loro di colpo si sentono incapaci e non capiscono cosa sta succedendo, proiettano lo sguardo degli altri su se stessi e crollano. Certo, altrimenti pensano loro stessi di essere scemi, no? Sì, 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 dicono proprio così. Abbiamo un altro stacco pubblicitario quindi poi ti chiedo altre cose, a tra poco. Eccoci qui, altri dieci minuti per chiacchierare con Carlo Tagliesi, però se potete vi consiglio di comprare questo libro che è il racconto dei suoi due bambini, ormai insomma per adolescenti quindi forse se li chiamiamo bambini si offendono, è la storia di questa dislessia che poi è una dislessia di famiglia, ma di famiglia in due sensi, nel senso che nella tua famiglia c'erano stati come ci hai raccontato poco fa dei casi di dislessia a tua sorella in primis e poi di famiglia perché comunque questa cosa impatta sulla famiglia, giustamente tu dici e lo dici anche nel libro, ci sono situazioni molto gravi, no? Pensiamo a bambini magari con gravi disabilità e quindi sembra quasi che uno non possa esprimere invece il proprio disagio nell'essere magari solo di fronte a una diagnosi di dislessia e nel sentirsi in un capito in qualche modo, no? E poi c'è la fatica di tutti i giorni e però c'è una parte che riguarda poi le tue amiche, no? Sì. E che è una bella valvola quella di sfogo, no? Perché come c'è il genitore che magari ride e tu lo racconti di un'altra persona, degli errori ortografici di una bambina durante una caccia al tesoro e poi c'è il genitore che ti capisce perché c'è dentro probabilmente ma io voglio pensare che ci siano anche persone che non essendoci dentro un po' di empatia la provino a prescindere. No, certamente ci sono, io appunto le ho chiamate le amiche di salvataggio, diciamo questo gruppetto di genitori con cui a un certo punto ti trovi incollato e non ti ricordi neanche bene com'è che ci si è trovati, no? Nella fattispecie ognuno di questi genitori ha un, io lo chiamo un dis, un bambino un po' speciale per qualche ragione e queste persone capiscono da un lato diciamo tutto l'amore che provi per tuo figlio, la voglia di difenderlo, ma tante volte anche la sensazione di non ce la posso fare o di, non dico odio perché non è mai odio per un figlio, però insomma di dire ma porca miseria, no? E si discute anche sul, se sia giusto o meno sbandierare agli altri che in casa tua c'è questa difficoltà, no? È giusto dire mio figlio è dislessico piuttosto che ha un problema, mettere le mani avanti, una di queste mie amiche dice, no? Perché senti il bisogno di dirlo? Te li devi ingraziare, devi fare una captazio benevolenza, no? E insomma io alla fine ho capito che è una cosa che invece dico spesso perché fa parte di me, fa parte del nostro modo di essere. Sì, che non ha gli occhi azzurri piuttosto che... Sì, che vuol dire che nella nostra famiglia c'è anche questa cosa qui da affrontare, ma che allo stesso tempo ci dà una marcia in più per capire l'altro, cioè il gusto di mettersi nei panni degli altri, no? Non è semplice, però... E poi non doverlo giustificare, no? Anche per i ragazzi, cioè non dover dire, magari nel momento in cui uno scopre come scrivi piuttosto che come reggi, ma se tu lo sai, come dire, diventa quasi una cosa normale, no? È come le sedie rotelle, se ce ne fossero tantissime, nessuno le ha di te. Ecco, certamente il nostro figlio maggiore che oggi fa la seconda media, ecco appunto dicevo prima, sta cercando di introdurre, noi cerchiamo di fargli usare adesso il computer in classe fa una resistenza pazzesca, perché è diverso, in seconda media è quasi una bestemmia, una parolaccia, e insomma non è semplice, perché abbiamo questi esempi di tutti perfetti, di tutti bravi, di tutti con duemila follower sui social network, la performance, e tu invece sei lì che devi dirgli, guarda che la vita non è, non sono i cento metri, ma è una maratona, tu magari in questa fase qui ti stai ancora cercando, ma poi a un certo punto verrai fuori. Noi abbiamo faticato a trovare degli esempi così da fargli, per far capire ai nostri figli che insomma devono pazientare un po', ma che poi arriverà al loro momento, perché non è semplice. Ma la differenza invece con il secondo, cioè eravate comunque più preparati? Sì, a quel punto eravamo più preparati, quindi lui ha iniziato il nostro secondo che è soprattutto discalculico, quindi lui mentre il primo scrive velocissimo ma malissimo, perché è disgrafico, il secondo scrive lentissimo ma perfetto, quasi maniacale, però molto lento. Il suo problema è soprattutto con la matematica, è discalculico, quindi non riesce bene a incolonnare le cose, quando vede i numeri va in confusione, addirittura proprio suda, cioè vede una pagina di operazioni e per lui è come avere davanti una scalata da fare, no? Quindi con lui sì, ci siamo mossi in maniera diversa, ha iniziato la terapia prima e lui devo dire è più orgoglioso, è più forte, forse ha seguito un po' tutto il percorso del primo, per cui lui dice no vabbè io sono dislessico e tu hai gli occhiali, no? E fa parte di me e anzi c'ho pure i superpoteri. Si mette già alla pari. Si mette già alla pari, però forse appunto beneficia un po' del così. Della storia del fratello. A questo tempo lui è anche seguito da uno psicologo che ci accompagna e il quale ci dice guardate che il ritorno di incapacità e di non essere a livello degli altri eccetera l'ha minato tanto, cioè tante sue difficoltà oggi di autostima e di cose così derivano proprio da un rimando così negativo da parte della scuola, sì. Certo. Per cui lui come dire sta sviluppando degli anticorpi potenti. Però questo magari se non altro gli altri lo sentono, no? Sì. Sì, 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 lui lo dice subito. Anche lui spiattella subito questa cosa, mentre il primo sta un po' più attento all'immagine, forse un po' più grande, il secondo dice no, fa parte di me questa cosa qui. E questa cosa che li unisce? Eh, li unisce nel senso che loro, come dire, si menano come due maschi, no? Spesso. Però hanno poi uno per l'altro un po' questo sguardo che si capiscono, loro lo sanno come funziona il loro cervello, le cose che riescono a fare e che non riescono a fare. E spesso intervengono quando invece tu hai un momento di blackout e non li capisci, no? Per esempio, io racconto del fatto che, non so, nostro figlio, che è un appassionato di sci, cioè quello più piccolo, ogni volta che rinizia la stagione, lui la prima pista non la vuole fare, cioè proprio si rifiuta di scendere. E noi diciamo, ma perché? Ma perché? E recentemente appunto c'è venuto in soccorso il fratello Maggiore, dicendo, ma perché lui non si ricorda di essere capace? E a noi succede, perché a lui, sì, te lo dico io che lo so, che anche lui non si ricorda certe volte di essere capace di nuotare, di andare in bici, proprio non so come dire, le automatismi, le sequenze gli riescono molto difficili. Allo stesso tempo invece spesso ci prendono in giro, a me e a mio marito, che adesso ormai scherziamo, diciamo, scusate, guardate, noi che non siamo dislessici, possiamo, esatto, dobbiamo andare a cucinare perché noi l'arrosso non riusciamo a immaginarci, non riuscire, no, il profumo, il sapore. E quindi insomma c'è un po'... Ma seguendo la ricetta passo a passo. Esatto, per cui insomma alla fine sono anche loro che adesso si è un po' capovolta, la situazione ci danno una mano, però non è per niente semplice. Non è facile, però magari questa cosa che li unisce forse gli dà anche forza, no? Sì, gli dà forza. E poi secondo me c'è un altro tema che è quello dei costi, che insomma su una famiglia le terapie costano, spesso sono un secondo mutuo, se uno è un mutuo, insomma, per cui devo dire la formazione degli insegnanti... Costerebbe meno. Sì. E farebbe meglio a tutti. Siccome abbiamo solo tre minuti, io volevo anche che ci raccontassi un po' Radio Mamma, perché poi insomma è un po' la tua creatura, no? Sì. Tu e di altre. Sì, sì, da sola non l'avremmo. Eh, se ce la riesci a raccontare. Allora, Radiomamma.it è un'impresa al femminile che abbiamo creato nel 2008 per creare una città più a misura di famiglia, cioè l'idea era usare il web per dare al genitore lo stimolo, lo strumento per migliorare la città e renderla più a misura di famiglia. Per cui la prima cosa che abbiamo fatto era, così, il nome stesso Radio Mamma è un po' un omaggio al tam-tam informale delle informazioni che girano tra il parco e il pediatra. Quindi abbiamo detto, beh, ma un genitore che lavora come fa? Certo. Che è in ufficio fino a tardi. Quindi abbiamo, come dire... Facendo comunicazione voi. Facendo comunicazione abbiamo mappato tutto quello che c'era e ordinato, per cui il genitore sul nostro sito, sull'app, ormai Radio Mamma è una piattaforma multimediale a cui il genitore può accedere dai social network, dalle app, dal sito, trova tutte le cose da fare per i bambini, zona per zona, trova delle informazioni che una redazione di giornaliste professioniste produce, e alle volte anche delle informazioni che non esistono e che noi creiamo perché ci sembra che manchino. Per esempio? Per esempio, non so, recentemente abbiamo creato queste guide sulla robotica e la creatività digitale per i bambini, o abbiamo creato dei corsi per genitori fundraiser che insegnano ai genitori come raccogliere fondi per la scuola, o abbiamo creato un corso per genitori e figli insieme sull'uso responsabile dei dispositivi digitali, perché è sempre difficile far passare questo concetto. Poi abbiamo ideato un bollino di qualità Family Friend, un bollino blu, che è una rete di mamme antenne di quartiere, cioè che vivono e lavorano nei vari quartieri, vanno a rilasciare agli esercenti e ai professionisti che pensano in maniera innovativa alla famiglia. Possono essere, non so, adesso mi viene in mente scuole, musei, bar, autoconcessionari, cinema, insomma realtà che sono accoglienti e attenti nei riguardi della famiglia. E quindi questo è uno dei nostri lavori. L'altro è lavorare con la pubblica amministrazione, soprattutto lo sviluppo di politiche sociali diverse. Per esempio abbiamo lavorato tanto sulla conciliazione vita-lavoro. Molti genitori ci dicevano ma perché è così difficile conciliare i tempi di vita e di lavoro? E quindi abbiamo fatto dei progetti pilota all'interno delle scuole di Milano, capendo poi che il problema dei genitori è che tutti hanno bisogno di aiuto, tutti si incrociano ma non si fidano perché non si conoscono. E quindi banalmente abbiamo trovato dei sistemi di autoaiuto, ricreato dei sistemi di autoaiuto in maniera artificiale per fare in modo che la gente si segui e si dia una mano. Allora, io ti ringrazio veramente molto. Grazie a voi. Allora, i miei bambini hanno i superpoteri, storia della nostra dislessia. Carlo Tagliesi, andate anche a spulciare su radiomamma.it. Grazie veramente per essere stata con noi. Noi ci rivediamo tra pochi minuti con un'altra ospite. In qualche modo parliamo di bambini ma di cibo. Grazie a tutti. Grazie.